Musica Abbandona 230 pneumatici e altri rifiuti pericolosi nelle isole ecologiche di 5 comuni denunciato un quarantenne di origini asiatiche A Pesaro spara tre colpi di pistole in un sottopasso era una scacciacani denunciato uno straniero già noto alle forze dell'ordine Trovato l'accordo, il punto vaccinale resta al Codma di Rosciano Afano il comune stanzierà 18 mila euro per un rimborso ai volontari No ad altre restrizioni, One Green Pass rinforzato per il presidente Francesco Acquaroli si creerebbero più tensioni e discriminazioni sul lockdown per i non vaccinati i cittadini si dividono Il lockdown per i non vaccinati è giusto? Lo trovo un po' esagerato Avvistato un branco di sei lupi a Belgato di Fanno al Ponte Mimmo sbranata una capretta di Sergio Carboni il consigliere regionale Giacomo Rossi propone controlli immediati e un piano di contenimento, la fauna selvatica è diventato un pericolo Terzo atto vandali con il sottopasso dell'Ido Afano rovinato con la bomboletta spray, un pannello del liceo Apolloni indignata l'assessore al decoro già in contatto con la scuola e in corso la gara d'appalto per le telecamere Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia in apertura la cronaca con gli agenti del commissariato di Fano che hanno denunciato il titolare di una ditta di smontaggio di mobili di San Costanzo che ha abbandonato due tonnellate di rifiuti anche pericolosi in diversi comuni della provincia di Pesaro e Urbino Tutti i dettagli nel servizio di Letizia Marchionni È stato individuato dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Fano il responsabile di numerosi casi di abbandono di grandi quantità di rifiuti presso alcune isole ecologiche nei comuni di Fano, San Costanzo, Pesaro ed intorni Gli accertamenti effettuati dagli agenti diretti da Stefano Seretti in collaborazione con la Polizia Locale di Fano e di San Costanzo con i Carabinieri Forestali di Pesaro e con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro hanno permesso di ricostruire tutti gli episodi di abbandono dei rifiuti avvenuti nei mesi precedenti Sono stati accertati 8 casi di sversamenti di rifiuti composti da 180 pneumatici usati per un totale di 1500 kg presso le isole ecologiche tra Fano e San Costanzo a cui si aggiungono altri tre episodi di abbandono per un totale di altri 500 kg di rifiuti costituiti da 50 pneumatici e da un frigorifero avvenuti tra Monbaroccio, Villabetti e Pesaro tutti in orari notturni Le indagini hanno consentito di identificare il responsabile risultato essere un quarantenne di origine asiatica titolare di una ditta di montaggio e smontaggio mobili di San Costanzo attiva nel recupero di varie tipologie di materiale tra la provincia di Pesaro e Urbino e la vicina Romagna da rivendere nel paese d'origine Il materiale recuperato veniva conservato all'interno di un deposito situato nell'entroterra ed una volta giunto a saturazione veniva in parte liberato ricorrendo allo sversamento presso le isole ecologiche della provincia Il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per l'attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi Inoltre sono stati sottoposti a sequestro preventivo due autocarri mentre tutto il materiale abbandonato è stato recuperato e conferito presso i centri di raccolta autorizzati Invece la squadra mobile di Pesaro ha individuato l'uomo che il 15 novembre aveva esploso tre colpi di pistole in un sottopasso in centro a Pesaro Grazie alla segnalazione di un cittadino sono partite le indagini degli agenti di polizia che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza Gli investigatori sono risaliti velocemente al soggetto Si tratta di uno straniero con precedenti per spaccio di droga che è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola in metallo risultata essere una scaccia a cani priva di tappo rosso e indistinguibile da una pistola vera Lo straniero che fino a pochi giorni prima si trovava agli arresti domiciliari è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver portato la scaccia a cani fuori dalla sua abitazione Torniamo a parlare dell'alluvione perché a Fano Sud e a Marotta di Mondolfo sono proseguite anche oggi le operazioni di pulizia e di sgombero da parte dei cittadini che hanno subito danni negli scantinati, nei garage e negli esercizi commerciali invasi da acqua e fango centinaia immobili, gli elettrodomestici e altri oggetti rovinati irreparabilmente il sottopasso delle rane è stato riaperto al lavoro la polizia locale gli operai comunali i vigili del fuoco che hanno eseguito ulteriori verifiche post allagamenti e i volontari della protezione civile anche di Colle al Metauro intervenuti per aiutare gli abitanti della zona su Facebook hanno ricordato che l'unione fa la forza Ed ora la pagina della sanità dal Codma di Rosciano questa mattina sono arrivate buone notizie perché il punto vaccinale non verrà spostato a Marotta il comune di Fano si è impegnato a rimborsare i volontari che ogni giorno prestano il servizio nel lab fanese è stato trovato l'accordo il punto vaccinale resta al Codma di Rosciano è quanto emerso questa mattina al termine di una riunione che ha visto la partecipazione dell'Asur dell'ambito territoriale sociale 6 di alcune associazioni del primo cittadino di Fano e di sindaci e vice sindaci dei comuni limitrofi nei giorni scorsi infatti si è ripotizzato uno spostamento del lab a Marotta di Mondolfo a causa della mancanza di volontari che per otto mesi hanno garantito gratuitamente assistenza alla popolazione il problema stava non solo nello sforamento del monte oreannuo relativo ai servizi svolti ma anche nell'assenza di rimborsi ora però dalle economie e dei servizi sociali il comune di Fano mette in campo 18 mila euro per far fronte a questa esigenza intanto è emerso che questa collocazione per il centro vaccinale come logistica è il migliore che ci sia nel territorio che c'è collaborazione quindi è un altro elemento importante poi vorrei fare chiarezza perché oggi in questi giorni sono state dette tante cose che si pagano i volontari i volontari sono volontari e chi vi parla e chi è una persona oggi faccio il sindaco ma vengo dal mondo del volontariato e lo conosco molto bene quindi colgo anche adesso l'occasione di ringraziare tutti coloro che fanno servizi di volontariato proprio ieri e l'altro ieri abbiamo visto la situazione a Ponte Sasso e Marotta cosa vuol dire avere dei volontari sempre a disposizione quindi intanto va detto grazie il problema che era assorto era proprio per questo aspetto di coprire delle spese vive che ci sono che non è giusto che siano a carico delle persone che vanno a prestare un'opera di volontariato per questo ha proseguito il sindaco Fano che tra l'altro è il comune capofila dell'ambito sociale 6 metterà a disposizione il contributo siamo fatti carico di garantire alcune risorse per coprire queste spese vive questi costi vivi di gestione e che garantiscono fino ad aprile poi ci saranno come è giusto che ci siano anche dei ristori da parte delle risorse messe a disposizione dalla regione ma per quello che riguarda il problema di adesso la gente deve stare tranquilla ma io non ho mai avuto dubbi alcune volte è più la confusione che si fa rispetto al problema però ancora una volta abbiamo dimostrato che quando ci sono poi questioni da affrontare ci siamo e le risolviamo soddisfatto anche il presidente del CB Club Mattei Saverio Livi è un piccolo rimborso ha precisato ma che permette di coprire almeno le spese sostenute dai volontari per recarsi con la propria auto nella zona del Codma ci sarà anche un rimborso per le associazioni che comunque hanno le assicurazioni e le divise e quant'altro parliamo di 15-20 euro al giorno a volontario che una parte rimarrà all'associazione una parte al volontario questo chiedevamo non di più non un compenso come scrivono in tanti che la protezione civile non è più presente perché vuole essere pagata e non la pagano ma chiediamo un rimborso c'è stato concesso adesso ci vedremo fra noi che come associazione è stata scelta nell'ambito della riunione come associazione capofila con i referenti di volontariato in pratica dei gruppi comunali dell'associazione Alessandro Capucci o Delco Melino Melini insieme faremo un calendario chiederemo le disponibilità alle associazioni come sono la propria di solita ai gruppi comunali metteremo giù un calendario e lunedì pensiamo di essere presenti almeno con tre volontari così da ritornare a dare quel servizio per un minimo di rimborso spese e non contribuire noi con i propri soldi alla riuscita in pratica del sistema Nelle ultime 24 ore nelle Marche si sono verificati due decessi regati al coronavirus si tratta di una donna di 88 anni residente a Servigliano e di una settantenne di Senigallia tra le nuove diagnosi invece i positivi riscontrati sono 290 in testa per numero di contagici alla provincia di Pesero Rubino con 85 casi seguita da quella di Ancona con 83 negli ospedali della regione i ricoveri sono 5 meno rispetto a ieri per un totale di 86 resta stabile il numero dei pazienti sia in terapia intensiva che in semi-intensiva dopo i marchigiani con più di 60 anni da lunedì prossimo lunedì 22 novembre alle 10 potranno prenotare la terza dose di vaccino anche gli over 40 che abbiano effettuato la seconda dose dal meno 6 mesi potranno prenotarsi indipendentemente dall'età anche i caregiver cioè coloro che assistono persone non autosufficienti e i fragili i quali saranno presi in carico direttamente dai centri che li hanno in cura maggiori dettagli li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it e tra le ipotesi allo studio della governo c'è anche quella di adottare il modello Austria dove da lunedì scorso è iniziato il lockdown soltanto per i non vaccinati Angelica Panzieri questa mattina ha raccolto il parere dei cittadini l'ipotesi di un lockdown solo per i non vaccinati non convince in Italia ma di fronte alla crescita dei contagi da covid con i 10.000 casi raggiunti nella giornata di ieri mercoledì 17 novembre nel dibattito sala la ribalta il green pass a 2G ovvero il rilascio del certificato verde sull'esempio di Austria e Germania solo per i vaccinati o guariti escludendo il tampone negativo alcuni partiti e regioni stanno premendo sul governo per mettere in pratica anche in Italia il cosiddetto modello Austria dove da lunedì scorso è iniziato il lockdown soltanto per i non vaccinati un'ipotesi che a Pesaro divide i cittadini io mi vaccino sia per me stessa che per gli altri per cui se vogliamo uscire tutti da questa catastrofe ci dobbiamo vaccinare tutti ma anche gli extracomunitari anche i paesi poveri quindi o ci salviamo tutti o non ci salva nessuno quindi il lockdown per i non vaccinati se lo dovessero fare anche in Italia come in Austria secondo lei è giusto? forse sì io sarei d'accordo cioè visto che i non vaccinati hanno preso questa decisione che se ne assumano anche le responsabilità delle decisioni che prendono perché è troppo comodo dire noi vogliamo essere liberi tranquilli non vogliamo fare nessun vaccino non vogliamo rischiare niente e poi cosa fanno se ne girano liberi tranquilli ovunque a rischi nostri che noi rischiamoci ci sottoponiamo al vaccino perché anche lì è un'incognita quali siano i rischi del vaccino però lo facciamo sia per noi che per gli altri loro non lo vogliono fare se ne assumono le responsabilità loro per me devono vaccinarsi tutti tutti il lockdown il lockdown per i non vaccinati è giusto o lo trovo un po' esagerato esagerato sono d'accordissimo bisogna che i più vengono rispettati dai pochi che è una cosa importante e la libertà non è un qualcosa che la si guadagna così bisogna conquistarsela e chi si è vaccinato se l'è conquistata e quindi gli altri la devono rispettare io sono uno di quelli che a me uno è libero di fare quello che vuole dalla propria vita quindi io sono vaccinato quindi però gli altri facciano quello che vogliono sarebbe che non è giusto d'accordo io ho fatto tre vaccini più ho fatto anche l'antinfluenzale è un fatto di civiltà io non ho avuto poro di morire per ben due volte ma che debba temere il prossimo che mi tira in faccia la morte no è un fatto minimale civiltà è perché io ho una certa età e ricordo che quando arrivava la primavera le mamme terrorizzate perché arrivava la polio e tutti quei bambini storpi sono tutti morti e allora il vaccino e non mi vengano a dire allora devono rinunciare alla scienza allora però se hanno bisogno antibiotico dopo non lo devono fare perché se stessi va bene ma quando c'è un pericolo per gli altri è una cosa impressionante è esagerato perché abbiamo già avuto questa esperienza del lockdown quindi di conseguenza non vorrei tornare a quei tempi lì praticamente però adesso lasciare la gente a casa per questi motivi qui mi sembra un po' esagerato d'accordo lei d'accordo? decisamente no perché siamo costretti noi anche più anziani vaccinati a dover fare delle restrizioni per chi per puntiglio non se lo vuole fare quindi è giusto se decidono di non farlo avranno delle conseguenze secondo me non è giusto però penso che tutti dovrebbero fare il vaccino perché non è giusto che io faccia una terza dose e che nessuno abbia che questi non vaccinati non abbiano neanche una dose non sono d'accordo con i no vax però così è esagerato sono vaccinata e penso che sia una misura giusta perché ho anche persone a fianco a me come amiche familiari che non si sono vaccinati hanno deciso di non farlo e penso che questa misura adottata in Austria sia corretta in quanto porterebbe ancora di più le persone a vaccinarsi anche coloro che sono contro e sono addirittura no vax invece il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ritiene che non siano utili ulteriori restrizioni per i non vaccinati o un green pass rinforzato perché anche se il contagio ha ripreso a correre siamo in una fase diversa dallo scorso anno e perché non stiamo vedendo un aumento sconvolgente delle vaccinazioni lo ha detto a Sky TG24 poco prima dell'incontro delle regioni che dovrebbero decidere sulle ulteriori misure misure che secondo il governatore rischierebbero di creare altre tensioni e divisioni da chi è vaccinato e chi non lo è dovremmo anche dire aggiunto che tra chi non è vaccinato c'è chi non lo è per scelta e chi non lo è perché non può vaccinarsi andremo ad innescare un meccanismo pericoloso sul green pass inoltre non c'è stato un aumento delle vaccinazioni è proseguito a fine luglio il 70% dei marchigiani aveva ricevuto la prima dose ora l'85% ma tante di queste persone lo avrebbero fatto comunque vedo troppa gente senza mascherina ha proseguito Acquaroli e troppa gente che sta abbassando la guardia prima di fare ulteriori restrizioni a concluso bisogna intervenire sul trasporto pubblico locale efficientare il sistema di ventilazione meccanica nelle scuole e una serie di accortezze che non creino discriminazioni e che facciano sì che questa pandemia la superiamo uniti e non divisi questa mattina intorno alle 10 a Marotta di Mondolfo un gruppo di manifestanti si è riunito mostrando cartelli con su scritto possiamo ancora fermarli o certificato verde uguale libertà appunti si è trattato di un flash mob organizzato da Noi siamo il popolo italiano e dal coordinamento Marche e Provincie Unite che si è svolto in via litorania per protestare contro il green pass e rivendicare il diritto alla libertà di scelta non accettiamo affermato manifestante di essere liquidati frettolosamente come no vax no pass o peggio criminalizzati solo perché ci opponiamo ad un regime che manipola l'informazione per calpestare libertà e diritti inviolabili come quello del lavoro la speranza concluso è che la nostra iniziativa sia presa ad esempio e sia riproposta in diverse città per mandare un messaggio al governo noi non ci arrendiamo questa mattina intorno alle 10 a Marotta di Mondolfo un gruppo di manifestanti si è riunito mostrando cartelli con su scritto possiamo ancora fermarli o certificato verde uguale libertà appunti si è trattato di un flash mob organizzato da noi siamo il popolo italiano e dal coordinamento Marche e Provincie Unite che si è svolto in via litorania per protestare contro il green pass e rivendicare il diritto alla libertà di scelta non accettiamo affermato un manifestante di essere liquidati frettolosamente come no vax no pass o peggio criminalizzati solo perché ci opponiamo ad un regime che manipola l'informazione per calpestare libertà e diritti inviolabili come quello del lavoro la speranza concluso è che la nostra iniziativa sia presa ad esempio e sia riproposta in diverse città per mandare un messaggio al governo noi non ci arrendiamo andiamo in località a Belgatto nel comune di Fano dove ieri sera alle 22 e 40 è stato avvistato un branco di 6 lupi una fonte c'è scritto reporter che ci ha inviato il video mi dice che il primo potrebbe essere femmina alfa probabilmente anche gravida penso che la problematica non possa più essere sottovalutata dalle autorità competenti visto che questo branco ha concluso si è spostato su una strada abitualmente frequentata da persone che fanno trekking che vanno in bici e fanno passeggiate anche con bambini e cani e forse questo è lo stesso branco di lupi che è stato avvistato al Ponte Mimo nel quartiere Poderino hanno mangiato una delle due caprette che da anni era l'attrazione dei bambini della città ci ha detto il noto artista Sergio Carboni i rumori ha proseguito si sono sentiti verso l'una di notte fate attenzione e quella del lupo è diventato un'emergenza che anche per il consigliere regionale Giacomo Rossi deve essere affrontata subito con dei piani di contenimento degli animali selvatici lupi intorno alle case e allevatori sotto attacco il proliferare indisturbato della fauna selvatica oltre a recare danni alle attività agricole è diventato sempre più un pericolo per gli animali se ne discute ormai da tempo ma il lupo è considerato una specie protetta e non è semplice intervenire di certo però bisogna fare qualcosa adesso prima che la situazione degeneri ulteriormente ne è convinto il consigliere regionale Giacomo Rossi che dati alla mano ha contato almeno 20 attacchi negli ultimi 60 giorni solo nelle province di Ancona e di Pesero Rubino siccome ero stato accusato di dover leggere i dati io ho portato i dati dati dall'evidenza cioè ho raccolto tutte le cronache di questi ultimi due mesi di attacchi avvistamenti di lupi attacchi nei confronti di animali domestici o animali di allevamento o avvistamenti intorno alle case o alle città ecco che cosa è emerso? è emerso che i censimenti e i dati ufficiali dicono una cosa la realtà è un'altra che c'è una presenza molto importante di lupi o di lupi ibridati per me è la stessa cosa che però va controllata dalla costa all'entroterra sono stati sbranati sia capi di allevamento che animali domestici come cani e gatti episodi che hanno di fatto aumentato la preoccupazione generale questi lupi oramai si sono antropizzati oramai fanno parte della nostra fauna e quindi in qualche maniera bisogna controllarli come si controllano i cinghiali come si controllano i caprioli bisognerà cercare di avviare un controllo anche per questi animali quindi quali sono le sue richieste? allora controllo che non significa sterminio questo è ovvio che va detto però bisognerà cercare di attuare qualche piano come viene fatto in qualche altro paese dell'Unione Europea per dire in Germania dove ci sono stati dei piani di contenimento a fronte di situazioni come analoghe alle nostre ma da chi era stato attaccato? ma da un certo mondo ambientalista che vede il lupo quale animale inattaccabile un qualcosa che non può essere contenuto non vedo perché debbano esserci animali di serie A e di serie B quindi io ho proposto per far fronte a questa situazione delle lettere all'assessorato competente mi hanno chiesto di avere il coraggio di presentare la proposta di legge dell'ex consigliere talè nella quale si chiedeva un contenimento di questo lupo la sto valutando non è possibile che nel 2021 nell'Interlandifano o nei nostri paesi dobbiamo aver paura di tenere un cane legato alla catena perché c'è un lupo che va là e lo mangia insomma è una situazione intollerabile ecco non vorrei che dovremmo intervenire quando poi succede la tragedia spero di no ecco io vorrei preventivare e affrontare seriamente la situazione erano stati ripristinati all'inizio del mese ma qualcuno li ha rovinati di nuovo non c'è pace per i pannelli del sottopasso a Lido di Fano realizzati dagli studenti del liceo artistico a Polloni dopo la scritta fiocco incisa sul cartongesso e il secondo atto vandalico in cui era stata letteralmente distrutta l'installazione con gli ultimi versi di una poesia dialetale di Elvio Grilli nei giorni scorsi sono apparse due lettere disegnate con una bomboletta spray inutile ribadire la tristezza che provo ogni volta ha commentato l'assessore al decoro Barbara Brunori sono già in contatto con la scuola ha detto che come me non si ferma di fronte a gesti di pochi isolati le telecamere le avevo annunciate non per agosto ha poi precisato l'assessore commentando un post su facebook ma per dicembre è in corso la gara d'appalto e non appena verrà conclusa verranno aggiudicati i lavori si rivolgeranno al prefetto tramite un avvocato i residenti della zona trave che ormai da mesi portano avanti una battaglia a causa delle modifiche alla viabilità lo avevano già annunciato ma oggi è arrivata la conferma i residenti della trave nel comune di Fano si sono rivolti all'avvocato Giuliani per scrivere una lettera da inoltrare al prefetto Tommaso Ricciardi l'oggetto è lo stesso delle proteste dei mesi scorsi la pericolosità della strada che ha subito diverse modifiche in più step da parte dell'amministrazione comunale prima con i restringimenti della careggiata poi con le rotatorie e la nuova segnaletica questa mattina alcuni di loro si sono incontrati nel bar pasticceria di via Liguria per fare il punto della situazione come ho sempre detto non ci fermiamo abbiamo raccolto più di 500 firmi il mio disappunto e lo dico qua in televisione è che almeno il 10% di queste firme si dovrebbero far vedere molto di più e lavorare in funzione di risolvere questo problema avete notato altri disagi in queste ultime settimane gli stessi di sempre vanno forti problemi per ciclisti come ho sempre detto per pedoni abbiamo fatto una dimostrazione con la carrozzina non passa da nessuna parte e poi quello che mi dispiace è che non tanto i politici che ti prendono in giro questo è normale ma che i comandanti il giorno dopo la riunione in comune col sindaco e gli assessori il giorno dopo hanno mandato una pattuglia con il rilevatore di velocità solo un giorno sono passati 27 quindi non sono più tornati non sono più tornati non siamo non rientriamo nei problemi del sindaco e dell'amministrazione di Fano anche il sindaco stesso in riunione ci aveva detto contatterò il prefetto e vi farò sapere muta muta intanto la lettera ha precisato Francolini verrà inoltrata per conoscenza anche al sindaco alla comandante della polizia locale e agli assessori competenti insieme ai residenti oggi c'era anche chi non abita in zona ma transita spesso in questa via passo quasi tutti i giorni un giorno sì e un giorno sì per andare su in campagna e da quando delle menti eccelse hanno costruito hanno fatto quel progetto è una cosa impossibile è inconcepibile pensare che gente che ha una certa cultura in materia possa fare dei progetti così malsani perché prima o poi tanto qui capiterà un incidente di quelli anche abbastanza gravi perché la segnaletica non viene rispettata chi passa per primo gli altri devono aspettare ma prima o poi qualche incidente ci sarà è pericoloso è molto pericoloso perché non si passa i cordoli quelli gialli alti 15 cm mi sembra da gialli che erano sono quasi diventati tutti neri dovuto ai copertoni delle macchine che passano sono costretti a passare quindi io mi sono rimango basito pensare che questi che sono architetti ingegneri dicono una cosa brutta ma questi dovrebbero andare a fare un altro lavoro e vi annuncio che lunedì sera primo cittadino ci sarà il sindaco di Vallefoglia Palmi Rucchielli vedete in questo cartello tutti i numeri di telefono per intervenire in diretta invece subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato al villaggio di Natale e alle piante in un negozio florovivaissico grazie per averci seguito l'informazione torna domani mattina con Massimo Foghetti alle ore 7 arrivederci grazie a tutti